Salve a tutti soluzione del primo livello di I am fish Per prima cosa rotoliamo verso la fine dello scaffale Quindi dobbiamo passare da questo lato della casa Poiché se proviamo a buttarci subito sul pavimento la boccia si rompe Primo checkpoint superato Andiamo giù Ecco qua continuiamo su questo lato Quindi continuiamo a scendere pian piano Qua lo scaffale cadrà E a questo punto possiamo andare sul pavimento Quindi andiamo giù Io qua ho voluto provare anche a buttar di sotto lui ma non è successo niente Quindi scendiamo E a questo punto dobbiamo dirigerci qua verso la porta aperta Quindi usciamo Scendiamo qua passando in mezzo ai due fili Sempre in mezzo altrimenti cadremo Altro checkpoint Continuiamo ad andare avanti di qua Anche qua passiamo in mezzo Andiamo fino in fondo E troviamo un altro checkpoint Adesso scendiamo giù di qua Non so se è necessario il materasso forse no Non dovrebbe rompersi Comunque continuiamo Passiamo qua dal buco Sempre in mezzo ai due fili Entriamo nella grondaia Andiamo fino alla fine Quindi svoltiamo Qui cadiamo di sotto Checkpoint Ora non prendere questi due fili Vuol dire mancare il panic Sono dei bonus che possiamo trovare nel livello Se quindi siete caduti come a me Allora proseguite Da questa parte Sempre fino in fondo Diciamo che il primo livello è molto molto semplice L'unica cosa è la parte finale Che adesso vi dirò Come affrontare Ecco qua la grondaia si rompe Prendiamo l'altro checkpoint Non passando di qua dalle scatole Perché non si sposteranno Ma da qua Ecco fatto Giro completo Poi in mezzo a due fili Di nuovo Ci siamo quasi Adesso giù Ultimo checkpoint E prepariamoci ad affrontare la strada Dobbiamo attraversarla Ma passano le auto Come fare? Serviranno un po' di tentativi Quindi siate pazienti La tecnica che ho utilizzato io Quella che credo sia Quella giusta È osservare semplicemente La prima macchina Vicino a noi E buttarsi quando sta per passare quella Quindi vi faccio vedere Giriamo la telecamera dall'altra parte Non questa Così Ecco questa passa Vado E qui senza mai fermarsi Io ho avuto fortuna Sempre andando avanti Al limite fate più tentativi Quindi a questo punto Bisogna semplicemente Entrare in acqua Questa parte mi ricorda molto Alla ricerca di Nemo Bene Ci siamo Primo livello è completato Ci vediamo al prossimo video Primo livello iscriviti